GELATI! 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 televisione, molte pubblicità di gelati i pubblicità riabbinano la concezione di un piacere inesistente ad uno stecco ricoperto di polvere reidratata e croste più o meno rugose al gusto di nocciore e cioccolato, sbattono dentro quattro stronzi che rappresentano i tipi più canonici di essere umano perfino una ragazza che simula orgasmi a tutto spiano solo perché morde un viscidume appiccicoso sotto un croccante strato di merda secca variegata di piccione, terrificante infatti adesso nessun fin dell'orrore fa veramente paura ed io vomito sentendo parlare di cornetto adoro il panino con le frattaglie in salsa verde nessuno mi capisce, chi dice fotti il sistema ha in mente rifare gli stessi errori di coloro contro cui lotta una volta raggiunta la vetta pubblicizzeranno il cornetto nuovo ordine un morbido ripieno di libertà supportato da croccante granella di ideali e tutti lo mangeranno sentendosi liberi sarò di nuovo costretta a far uscire il cibo dalla bocca avrò di nuovo la conferma di essere stato creato per apprezzare quello che a nessuno piace ma dai non sarà mica vero non ci credo che la pensi davvero così puoi avere un'opinione diversa ma fino a un certo punto sei fatto di carne anche tu anche tu, anche tu, anche tu, anche tu vi prego non pronunciate quelle due parole riferendovi a me non è che prima mi escludete poi mi accludete poi mi riescludete poi mi riaccludete poi mi riaccludete poi mi riaccludete poi mi riaccludete e poi basta perchè ho capito che sto da solo con i miei disgusti per i gelati e per le speculazioni su Matrix siete contenti eh? Adesso siete contenti? avete rovinato qualcosa che era già rovinato anche voi che mi guardate con interesse credete in me come nella punta di un iceberg chissà quali risorse da sotto spunteranno fuori un giorno ma io detesto le metafore non sono un pezzo di ghiaccio enorme immerso nel polo Nord io aspetto sono bravo solo in questo non prendo parte regredisco per sostenere un discorso con persone che non mi capiscono voi ed è così un allegro ragazzo incerto che cela un ripieno di tra due biscotti di pasta frolla ricoperti di crema al cacao magro ormai sat dei vostri respiri sogno in città con pochi incontri e pochi individui nei luoghi d'incontro la gente socializza un trionfo di risate e musica alta ti offre una birra hai visto quella la notte mi accarezza ci vediamo da Mario alla festa sulla spiaggia si tu aspettami io certe notti dormo cerco di tornare a casa il più presto che posso perché ho sonno cazzo se per caso mi trovi nel gruppo dici stronzo tante belle parole sull'istacco e poi ecco di qui anche tu sei una parte del tutto ah sagace si sagace mi mancava proprio un cervellone come te che mi spiegasse cosa è la contraddizione di gente che mi dice cosa devo fare non ce n'è abbastanza ancora quando scrivo devo regredire perché il livello superiore nel mio caso è non avere un'opinione non ce n'è non ce n'è non ce n'è l'indic6 le morte